queste tinte la queste sono le tinte labbra di valeria marini poi devo trovare quelli che sono usciti ora dove stanno dove stanno allora questi sono i tanti i due questi sono i volumizzanti non voglio andare veloce se non si vede un qua non si vede nulla allora questi sono rossetti rossetti libidi opache poi devo trovare quelli che sono usciti ora non li trovo questi sono quelli due con il gloss l'osso questi pure sono altri rossetti mamma mia quanti rossetti la cc cream è troppo bello raga qua dentro questi sono tutti non devo correre sennò video un video bruttissimo questo fondotinta orgasmo all'aloe vera scusami eccole eccoli qua questi sono effetti sono gli estremi attivi che sono usciti ora allora vediamo il viso rosso vediamo i colori questo qua stanno tutti i pennellini con le queste cose non avete le valigie poi che mi serviva più di questa volevo provare un altro colore questa è una specie di arancio è una specie di arancio Voglio un altro colore che sto qui, lo 01 e quello rosso, vediamo, ma sono 3, poi. Ah se non ci sono qua non ci sono! Wow! Allora qua sono tutte le matite, qua sono i correttori, quelli camuflazzi, quelli che sono usciti ora, e qua sono gli smalti, ero curiosa di qualche smaltino, proprio questo no, vediamo se mi trovo uno che mi piace. Allora, eccolo qua. Non è riuscito però. Ti posso appoggiare? Sì, 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 vai, dai. No questo non l'avevo preso, due angeli, due maschera angeli, erano due, infatti ce n'era uno, questo no. Mascara? Erano due. Ah quello l'ha da un euro? Eh quello l'ha da un euro, sì hai ragione. Avevo preso quello l'ha, quello l'ha da un euro giallo e blu, ok grazie. Ah queste sono lì. Terra Compatto Brondo. Questa ho degli smaltini, belli pure gli smaltini. Poi, ah qua sono altre cose. E niente ragazzi, qui ci sono i blush. Ok. Quindi ragazzi, ora vado a continuo a prendere gli ordini delle clienti e a presto. Vi preparo l'ordine di... Qualsiasi informazione scrivete giù e scrivetevi al mio gruppo Facebook privato. Grazie.